ragazzi alla fine quasi parla anche di di razzismo che c'è nel mondo scusate tutto scusate nel mondo che ormai sta succedendo uno schifo uno schifo si sta tornando indietro a posto di andare avanti noi andiamo indietro capito non andiamo indietro capite se quando vi sembra una cosa giusta questo e nessuno ne parla nessuno dice pensano sulla fa e di tocchi storie il sono qui sono la se qui tutta piccicchi da piccicchi la dissing su dissing ormai social li usano solo per dissing dissing di qua dissing di la avesse mamma da cavi mamma dalla maia da piccana zappi fatti a tazza padre ma che va a giari